gentili telespettatori buona giornata e così la litizzetto scrive un'altra letterina la meloni è un giornale come il tempo dice ma la letterina somma ora no perché non scrivi la letterina a quelli che hanno portato via un sacco di soldi agli italiani delle loro tasse per farsi il resort il ristorante il supermercato l'agenzia di viaggio l'appartamentino all'estero perché litizzetto non fai una letterina somma oro e la fai ancora la meloni vabbè la tua nemica probabilmente se io avessi un programma farei la letterina alla schleine tutte le settimane lei fa la letterina alla meloni io farei una letterina a conte una letterina a elena direi elena perché ti fai chiamare elli serve per cuccare va bene nome più no elena è più dozzinale elli dice elli schleine dice è quasi un nome d'arte un nome cinematografico no e allora magari bene siamo a che tempo che fa domenica 5 novembre nella trasmissione di fazio fabio fabio fazio sul nove ebbene così parte la letterina a gioggia meloni come dice la litizzetto dice così lasciate stare la nostra melonscova quindi meloni è diventata melonscova prima era diventata melona no la melona adesso melonscova per lo scherzo telefonico che fra un po la raccogliamo col cucchiaino fermatevi fatelo in nome del lettone di putin che ha unito a lungo i nostri due popoli putin berlusconi non è il momento ora non sto a spiegarvi ma non lo è ermeloni adesso posso ridere posso ridere quindi quindi ermeloni adesso è sotto un treno come anna carenina che voi dovreste conoscere bene si rivolge a vovan e lexus i due comici insomma chissà che comicità è però che hanno parlato con la premiera al telefono fin centosi un presidente di un paese africano e poi dice la melona ha passato dieci anni di vita con un uomo dal ciuffo importante posso ridere mi fa ridere cosa devo fare e ogni tanto scappa anche una risata no un uomo dal ciuffo importante e qualche giorno fa è finita capita come dite voi in russia tutte le famiglie felici si assomigliano ma ogni famiglia c'ha un giambruno che si tocca il pacco a modo suo e poi dice fate uno scherzo a putin se avete il coraggio prendetelo per il gulag al telefono ma prima fossi in voi controllerei che le finestre di casa vostra si chiudano bene oppure date a me il suo numero avrei un po di cosine da dirgli come due terzi dell'umanità credo e così la letterina viene pubblicata sui social di che tempo che fa dove tra i commenti divertenti dei fan di fazio e compagni ce n'è uno che dice ma per sou maoro nulla eh sì naturalmente ormai questi due comici che sono stati parliamoci chiaro allontanati dalla rai no non è vero se ne sono andati gli hanno fatto capire che quella era la porta quando fazio ha riproposto come ogni anno il nuovo contratto che di solito lo richiamavano in un paio d'ore e si mettevano subito d'accordo ci abbiamo domani mattina per il contratto visto che era il conduttore di punta di punta per per gli ascolti elevati quando ha proposto l'ultima volta il contratto non si è fatto più sentire nessuno mi sembra siano passati quasi tre mesi e lui avrà detto mi sembra che qua mi stanno facendo capire che devo andare via e lui si è subito trovato un altro posto di lavoro pagato anche il doppio ma insomma è caduto in piedi come si dice portandosi dietro tutte le sue spalle televisive però naturalmente quando gli è stato fatto capire te ne devi andare te ne devi andare naturalmente lui e lei la litizzetto lucianina sono su tutte le furie quindi vedono questo governo come fumo negli occhi se un giorno salirà un altro governo di sinistra vedrete che verranno richiamati e loro torneranno in rai anche con la metà dello stipendio torneranno in rai e così nel monologo della comica dedicato alle vicende della settimana lei vede solo la vicenda dei comici russi ma degli arresti di sou maoro a cui viene chiesto 40 mila euro di multe probabilmente verrà cacciato dal parlamento non c'è neanche un accenno questo significa essere faziosi da fazio non puoi che essere fazioso perché un comico ti parla di sou maoro ti parla della meloni se eviti di parlare di un fatto importante perché è un fatto importante stai praticamente lavorando per una sola parte politica cioè sei chiaramente schierato e non hai quell'onestà intellettuale che contraddistingue anche diversi comici prendi in giro di qua e prendi in giro di là se prendi in giro solo una parte insomma perdi anche di credibilità io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è anche teleitalia seconda rete dove trovate video di politica di notizie di fai da te e poi questi video di teleitalia teleitalia seconda rete sono condivisi nella pagina di facebook che si chiama teleitalia poi lì se vi sono interessati li potete condividere tranquillamente con il tasto condividi e ringrazio tutti il canale sta arrivando in pochi giorni passerai le 300 milioni di visualizzazioni quasi 260 mila iscritti cinque anni di attività pertanto il grazie principalmente a tutti voi perché senza di voi il canale non esisterebbe ecco è composto da tante persone tante visualizzazioni grazie a tutti e arrivederci a presto